le ipotesi interessano i tre delle 5.35, delle 6.57 per Torino e di quello del ritorno che parte da Porta Nuova alle 18.10, spiega Pietro Ferrero con delega i rapporti con le ferrovie. Queste modifiche sono molto attese dai pendolari, sui quali i funzionari dell'agenzia metropolistana ci hanno dato garanzie. Saranno implementate previa verifica tecnica della fattibilità. Sono stati individuati e denunciati a piedi libero i due giovani che hanno obbligato un altro ragazzo a cedere loro una sigaretta utilizzando un coltello a serramanico. Precedentemente il ragazzo aveva infatti rifiutato di dare loro la sigaretta richiesta. Tornato a casa, la vittima ha denunciato il fatto e i due sono stati rintracciati, uno è maggiorenne di Ibra, l'altro minorenne di Cerasco. Era disperatamente alla ricerca di un lavoro, aveva presentato domande a molte aziende, portando il suo curriculum e lasciato i suoi dati alle agenzie cittadine, senza risultati neppure un colloquio che la potesse indurre a sperare, fino al momento in cui incontra quel vecchio conoscente, noto come persona dai molteplici contatti in città. Il sessantenne braindese, con qualche precedente con la giustizia, la rassicura. Lui ha un buon conoscente, titolare di impresa di servizio, che sicuramente le potrà assumere. Sarà sufficiente che sia lui a consegnare all'amico il curriculum e la domanda di occupazione della trentenne, la quale, felicissima, stenta a credere a quello che le viene proposto. Naturalmente una piccola formalità da sbrigare. La giovane doveva versare subito 500 euro. La donna, seppur un poco perplessa per quella strana richiesta, decide di accettare e, dopo aver messo insieme a fatica il denaro, chiedendoli in prestito a familiari e amici che glielo consegna, carica di speranze, ma passano i giorni e quel colloquio per avere il tanto sospirato posto di lavoro non arriva mai. Quando la giovane disoccupata, realizzato di essere stata vittima di un raggiro, ha deciso di sporgere querela nei confronti del conoscente. I militari della compagnia di Bra, dopo averlo convocato in caserma, lo hanno denunciato per truffa alla procura della Repubblica di Alba e li hanno anche intimato di restituire i 500 euro alla giovane.